Guardate questo cassettone in legno, un trassiato e meraviglioso. Ci vediamo sopra. Stemmi nobiliari e un testo. L'invocazione della protezione di San Martino. Ci troviamo qui nell'affresco, alla base dell'affresco, dove si vede il santo proteggere gli abitanti del paese, la chiesa, durante la guerra. Ora, sul pilastro si legge 1859 e sotto scena delle guerre d'indipendenza. Qui dietro l'altare barocco, molto bello. Il coro è l'organo, il coro è l'indio. Molto bello. E' l'organo della chiesa. alla prossima